Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, interviene in merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa e sui social sulla cancellazione di via Antonio Scarpa. Non c'è stata alcuna cancellazione di via Antonio Scarpa, sottolinea appunto il sindaco Adamo Coppola. Tale denominazione permane nel tratto di strada compreso tra il parcheggio degli autobus e la nuova caserma della Guardia di Finanza. Il solo tratto che dalla caserma giunge fino alla rotatoria riporta la denominazione Via Fiamme Gialle. Non abbiamo cancellato alcunché perché abbiamo grande rispetto per coloro che hanno contribuito a scrivere la storia e per regalare a noi e ai nostri figli un'Italia migliore. Sulla parentesi terreni invece, la famiglia ha ceduto un pezzo di strada tra la stazione degli autobus e il liceo, in parte di privati e in parte su demanio fluviale, l'area sulla quale è nata la nuova caserma, è stata invece regolarmente acquistata dal comune e la trasformazione che ha subito la zona, con collegamenti stradali che in precedenza non erano presenti, ha fatto certamente acquisire un maggiore valore alle altre proprietà che vi permangono. Tutti i suoli restanti delle famiglie Scarpa affacciano peraltro tutti sulla via intitolata al loro avo.